In questo libro Paramansa Yogananda, uno dei più importanti insegnanti spirituali del XX secolo e autore del classico spirituale Autobiografie di uno yogi, ci offre una mappa da seguire passo dopo passo, per trovare il tesoro della vera felicità nel luogo in cui più raramente lo cerchiamo, nel nostro stesso sé. Paramansa Yogananda giunse negli Stati Uniti dall'India nel 1920, portando in Occidente gli insegnamenti e le tecniche dello yoga, l'antica scienza del risveglio dell'anima. Egli applicò questi antichi principi a tutti gli ambiti dell'esistenza, insegnando ai suoi studenti come affrontare la vita da un centro di pace e felicità interiore. Quegli stessi insegnamenti ora li condivide con te in queste pagine. Sono segreti semplici ma profondi per portare la felicità in ogni momento della tua vita, nei rapporti, nel lavoro, in ogni aspetto delle tue giornate. Con il loro aiuto potrai imparare a cercare la felicità laddove raramente si trova, scegliere di essere felice in ogni circostanza, identificare le abitudini che ti derubano dalla gioia, raggiungere il vero successo e la prosperità, scoprire gli aspetti spirituali della ricerca della felicità. Trovare la felicità è più facile di quanto tu creda, se la cerchi nel posto giusto. La felicità è più facile di quanto tu creda, se la cerchi nel posto giusto. Grazie a tutti.